Io sono assolutamente contrario, anche perché c'è una questione di fondo. Le proteine di cui il nostro corpo necessita non necessariamente devono venire dalla carne. Sono contenute per esempio in notevole quantità, nei cereali e nei legumi. Se noi consumassimo meno carne e mangiassimo più cereali e più legumi, ridurremmo di molto l'inquinamento degli allevamenti e tutte le altre cose connesse. Grazie.